Nel cuore dell'Abruzzo l'ITS Academy Turismo e Cultura è pronta a fare il suo debutto con l'Open Day che sarà presentato il prossimo 12 ottobre alle 10 presso l'auditorium dell'Annunziata di Sulmona. Questo evento segnerà il lancio ufficiale dei corsi e delle attività dell'ITS, istituto che mira a diventare un punto di riferimento nella formazione del settore turistico e culturale. Il sabato 12 ottobre alle 10 presso l'auditorium dell'Annunziata di Sulmona ci sarà la presentazione di due corsi dell'ITS Turismo e Cultura che potrebbero partire nella città di Sulmona il prossimo novembre. L'Open Day è rivolto a diplomati, quindi a persone che hanno già il diploma di scuola di secondaria superiore per poter accedere e frequentare questi corsi biennali che daranno la possibilità a chi chiaramente li frequenterà di prendere il titolo di tecnico superiore, in questo caso per quanto riguarda il turismo e le attività culturali. È un titolo riconosciuto a livello europeo, dà la possibilità ai frequentatori di fare degli stage presso le aziende che hanno bisogno di queste figure. Il 90% di chi frequenta questi corsi dopo il diploma va a lavorare il primo anno, è gratuito e ovviamente si potrà svolgere nella città di Sulmona. Quindi l'invito è a partecipare all'Open Day sabato 12 alle 10 all'auditorium dell'Annunziata di Sulmona affinché le persone che hanno intenzione di frequentare possono direttamente apprendere da chi sarà presente in quella giornata tutto ciò che c'è da sapere per potersi iscrivere a questi corsi.